Un video tutorial per vedere come si compila la domanda di mobilità 2022-2023 nel caso per esempio di una mobilità territoriale di scuola di secondo grado. Si entra sulle istanze online e si va a cercare, tra le varie istanze presenti attualmente su istanze online del MIUR, si va a cercare la domanda di mobilità secondaria di secondo grado. Ecco, in questo caso noi faremo una simulazione della domanda di mobilità secondaria di secondo grado ma potremmo farla per la secondaria di primo grado o per la primaria o anche per l'infanzia. Andiamo a vedere come si compila la domanda di mobilità di secondaria a secondo grado. Si va alla compilazione, si clicca su vai alla compilazione e si entra su una pagina in cui ci sono così dei dati informativi e l'informativa sulla privacy. Per poter andare avanti da questa pagina alle pagine successive bisogna spuntare la voce ho letto e accettato i termini e le condizioni legali. Si fa clic e poi si clicca sul tasto avanti. Dopo aver cliccato sul tasto avanti si entra dapprima in una pagina dove ci sono tutte le informazioni anagrafiche del docente che fa domanda di titolarità, di mobilità scusate. Poi andando avanti ancora si entra in questa pagina di istanze online dove si potrà vedere quali sono le domande disponibili da poter fare. La prima è proprio il trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado, dunque la mobilità territoriale. La seconda è il passaggio di cattedra per un'altra classe di concorso per cui si è abilitati per la secondaria di secondo grado. La terza è il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado per coloro che per esempio sono titolari in un altro grado. Noi andiamo a far vedere come si compila il trasferimento. Si fa inserisci e viene inserita così la domanda. Notate che in basso a destra c'è chiedilo a mobi. È un assistente digitalizzato dove poter porre le domande in caso di difficoltà. Andiamo nelle varie sezioni, vediamo quanti sezioni si possono compilare. C'è la prima sezione che è l'anzianità del servizio, poi le esigenze di famiglia, i titoli generali, le eventuali precedenze, la scelta di tipo di posto che comunque va sempre e comunque compilata, i requisiti, nel caso vedete i requisiti se si vuole fare per le scuole ladine a Trento, dunque non tutti devono compilare questa sezione, le preferenze che è obbligatorio compilare almeno una preferenza per poter presentare la domanda e l'indicazione degli allegati. Oggi andremo a vedere come si compila l'anzianità del servizio. Allora, la prima casella, la casella chiamiamola A1, è il numero complessivo di anni effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nuova nomina nel ruolo di appartenenza, escluso, aggiungo io, l'anno in corso. Per cui, per esempio, in un caso come il mio, dove ho 15 anni di ruolo dopo la decorrenza giuridica della nomina in ruolo, escluso l'anno in corso dovrò mettere 15. La casella numero 2, invece, sono il numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza. Attenzione, che in questo caso significa sempre nella scuola secondaria, ma di primo grado, perché è un ruolo diverso da quello di appartenenza, ma sempre nel ruolo della scuola secondaria. Eventualmente c'è anche la casella per la retroattività giuridica della nomina, non coperta da effettivo servizio. Nella casella numero 3, invece, andranno inseriti gli anni di pre-ruolo, compreso eventualmente il servizio su sostegno, se è stato prestato servizio su sostegno. Nel mio caso sono 13 gli anni di pre-ruolo e vado a inserire il numero 13. Nella casella numero 4 si parla della continuità del servizio nella classe di concorso e nell'istituto di titolarità. Io sono dieci anni che sono continuativamente nello stesso istituto di titolarità, dunque metterò dieci. Nella casella numero 5, queste tre voci, ruolo, altro ruolo, pre-ruolo, si riferisce solamente ai docenti di sostegno, titolari sul sostegno, che chiaramente se dovessero scegliere la tipologia di posto sostegno, devono per il raddoppio del punteggio inserire quanti anni di ruolo hanno sul sostegno, quanti anni in altro ruolo ma sempre sul sostegno e quanti anni pre-ruolo ma sempre sul sostegno. Ed eventualmente anche la registratività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio ma sempre sul sostegno. Dunque questa casella numero 5 che ha 1, 2, 3 e 4 caselle da compilare riguarda solo il sostegno. La casella numero 6 è il punteggio aggiuntivo dei dieci punti di bonus, ovvero sia che si può mettere sì oppure no, si mette sì per coloro che per esempio per tre anni consecutivi non hanno richiesto trasferimento dal 2000-2001 al 2007-2008 e non hanno mai usato questo bonus aggiuntivo perché coloro che non hanno prodotto domanda di mobilità in quel ottenio e hanno ricevuto un bonus che avrebbero potuto spendere almeno per una sola volta nelle mobilità successive. Chi non l'ha mai speso dovrà mettere sì, altrimenti mettere no. Io non ho mai avuto questo bonus, dunque metterò no. Ecco, questo è un esempio di come si compila questa domanda di mobilità per quanto riguarda la sezione anzianità del servizio. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.